Industria 4.0, la Toscana c'è, ma resta ancora molta strada da percorrere nonostante le ottime performance del sistema produttivo, non per un problema di risorse a disposizione ma di competenze e formazione. È quanto rileva la ricerca alle tecnologie 4.0 in Toscana, realizzata dalla società di ricerca MET per conto della regione toscana su 24.000 imprese italiane e illustrata a Firenze alla presenza dell'assessore alle attività produttive Stefano Ciuffo e dei rappresentanti delle associazioni di categorie del mondo produttivo. Tante aziende in Toscana hanno abbracciato la tecnologia 4.0 ma rispetto alle regioni prese a confronto, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Marche, resta un gap in termini di diffusione che varia dal 3 al 7%. Questi dati confrontati rispetto alla lettura recentemente data da Banca d'Italia sul sistema delle imprese, sul P, il prodotto, mostrano a Toscana fra le regioni più avanzate. Mostrano un grado di innovazione, di incremento dei fatturati, incremento dell'occupazione, incremento dell'esportazione, tutti dati positivi, a volte estremamente positivi. Dall'altra parte il grado di innovazione tecnologica introitato dall'impresa sembra essere, non dai dati di Banca d'Italia, ma da questa lettura, non al pari delle attese. Probabilmente questa è la lettura incrociata che dobbiamo essere capaci di fare. La tipologia delle nostre imprese è probabilmente meno permeabile delle altre rispetto all'innovazione tecnologica. Perché di questo si parla, quando si parla di Industria 4.0, di innovazione tecnologica applicata alla produzione nelle imprese. Che significa sostanzialmente, da un lato, utilizzare tecnologie per le informazioni. Faccio un esempio, se io ho tutti i dati, gestisco un magazzino della mia azienda produttiva e ho tutti i dati in tempo reale degli ordini e delle cose, io posso seguire via via caratteristiche, esigenze, domande e situazione dei miei clienti. Da un lato. Da un altro lato, seguire direttamente processi produttivi. Pensate a diverse postazioni produttive che sono collegate a un sistema informatizzato, che sono collegate e forniscono informazioni, che hanno controlli, oppure che sono direttamente comandate dal computer come i robot. Tra i freni alla diffusione capillare di Industria 4.0, illustrati davanti a imprenditori e addetti ai lavori, c'è il tipo di gestione delle imprese. Nel 71% dei casi a conduzione familiare, spesso accentrata e poco permeabile alla condivisione di scelte strategiche con soggetti esterni. E poi c'è il ruolo del manager, molto spesso non laureato o comunque non altamente formato al nuovo modello di Industria 4.0. La differenza grossa viene fatta proprio in queste fasce dimensionali, quindi in fasce dimensionali medio-piccole ed è diffusa presso tutti gli operatori, anche chi fa ricerca, chi fa innovazione in Toscana ha una propensione a 4.0 molto più bassa. L'incidenza delle componenti di proprietà, quindi proprietà familiari, è relativamente bassa, mentre conta moltissimo la qualità del management. Quindi in Toscana tutti coloro che hanno manager non di livello professionale molto alto, quindi che non hanno studi così accurati né esperienze forti in altre strutture, non utilizzano 4.0. E questo quindi, la componente management e qualità del management è un freno molto rilevante. La ricerca ha poi messo in luce che spesso le imprese soffrono della carenza di personale con competenze che non sono al passo con le esigenze richieste dalla digitalizzazione, soprattutto nel settore dati. Eppure sono tante quelle che negli ultimi tempi hanno colmato il vuoto assumendo un nuovo personale, cercando collaborazioni esterne, investendo in formazione e gettando le basi di crescita e sviluppo. Qui non è che noi possiamo pensare di cambiare il sistema della nostra impresa. Noi dobbiamo dire che questa impresa, nella quale crediamo e che produce quei dati che dicevo all'inizio, produce un PIL avanzato, di eccellenza, produce incrementi di fatturato uscendo da una fase di stagnazione, di crisi che è durata 10 anni, quella impresa deve acquisire strumenti nuovi. Perché in quella impresa, non modificando l'impresa o il modello, ma a quella impresa noi dobbiamo dare strumenti innovativi. Ed è quello che insieme, credo stamattina si percepisca, insieme all'associazione di categoria, Union Camere, Artigiani, Confindustria, stiamo cercando di costruire insieme un percorso di consapevolezza, un ritorno dentro le imprese per essere a fianco in maniera meno asettica, meno verticistica. Per un mondo reale, siamo attori, siamo promotori, abbiamo risorse e dobbiamo insieme alle imprese giocare a questa partita. Una partita, quella di Industria 4.0, che in Toscana si gioca soprattutto nel campo delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche e in quelli di gomma, plastica e chimica. Tecnologie meno utilizzate invece nei settori dell'alimentare, della meccanica e dell'abbigliamento, dove nonostante le buone performance in termini di fatturato, in materia di 4.0 si supera di poco il 10%, ma dove è concentrata in Toscana l'industria 4.0? È concentrata molto nelle aree di grande impresa, quindi c'è bisogno che si diffonda presso il corpaccione, il vero corpo del sistema produttivo toscano. Possiamo dividere due grandi famiglie, le tecnologie dedicate alla gestione dei dati e le tecnologie dedicate direttamente alla componente produttiva, quindi pensate per la produzione ai robot e pensate invece nell'altro caso a big data o utilizzazione di informazioni in tempo reale. In Toscana le differenze sono un pochino più ridotte nella fascia di grande impresa che utilizza in modo integrato tutte e due queste tecnologie, mentre le differenze sono grosse sia per i dati che per le attività produttive, per le tecnologie produttive. Uno dei punti critici che emergono dalla ricerca su Industria 4.0 presentata a Firenze riguarda le imprese 4.0 che negli ultimi tre anni hanno introdotto almeno un'innovazione, il 10,4% in Toscana contro il 20% circa di Veneto, Emilia Romagna e Marche. E tra le imprese con 50 addetti e oltre, solo il 34% di quelle toscane contro il 50% delle imprese italiane ha in programma quattro o più investimenti. Stessa cosa per le imprese più piccole. Cosa quindi deve cambiare in futuro? In primo luogo l'attitudine delle imprese ovviamente, perché quando si ritiene che queste strategie possono essere utili vengono fatte. Dopodiché si può lavorare sulla facilitazione, sull'accesso, ma le politiche già per quel poco che possono fare con le risorse disponibili fanno qualcosa. Il vero problema è capire che essere un subfornitore, per esempio, che è un altro dei punti critici, che utilizza tecnologie 4.0 crea molte opportunità in più nel campo delle filiere, delle catene del valore globali e nel campo della qualità della stessa subfornitura. Per questo la Regione Toscana punta a rendere il tessuto imprenditoriale sempre più permeabili alle innovazioni di Industria 4.0 per migliorare un quadro in cui già il 43% delle imprese dichiara di aver registrato un aumento del fatturato e il 37% una sostanziale stabilità in un contesto, lo hanno detto gli stessi imprenditori, minato dagli strascichi della crisi, dalle incertezze dettate da fenomeni come la Brexit e la guerra dei dazzi che pesa sulle esportazioni. Noi dobbiamo renderci conto che l'aver messo a disposizione le risorse economiche rilevanti al sistema, che le ha introitate, le ha acquisite. Il mio direttore dice che le misure che abbiamo messo in campo hanno trovato un pieno accoglimento e abbiamo un grado, una misura di piena utilizzazione delle risorse comunitarie messe a disposizione nel sistema. Dobbiamo renderci conto di quanta le risorse messe a disposizione producono effetti in termini di produzione di fatturato, di ricchezza, di maggiore occupazione. Probabilmente noi dovremo settorializzare ulteriormente le risorse e finalizzarle mirandole più efficacemente a spazi nei quali queste risorse possono produrre un grado di ulteriore e maggiore efficienza. Quindi da una misura che non è generalista ma in una certa misura lo è, l'innovazione tecnologica intesa in maniera ampia, noi dobbiamo passare a strumenti di maggiore dettaglio e cercare di avere un rapporto di maggiore efficacia tra risorse messe a disposizione e risultati attesi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!